Benvengano tutte le iniziative di dialogo anche con la Russia, purché siano nell'ambito dell'Unione Europea, perché noi abbiamo bisogno di parlare con una voce sola e non abbiamo bisogno che ci siano delle fughe da parte di alcuni paesi, ma che l'Unione Europea abbia una sua posizione sviluppando dialogo e sviluppando confronto. D'altra parte noi vogliamo abbassare i conflitti e le tensioni usando la diplomazia.